Siamo qui con il professor Umberto Morelli, a cui chiediamo un commento su come è andata questa campagna elettorale per le elezioni europee e anche per le elezioni regionali. Rispetto alle precedenti campagne elettorali, di Europa questa volta se ne è parlato di più, però ne hanno parlato soprattutto i partiti euroscettici, imputando all'Europa tutti i guai di questo mondo e tutti i mali che hanno colpito i paesi europei. Invece i partiti europeisti sono stati silenti. Innanzitutto l'Europa non ha comunicato se stessa e continua a non comunicare tutti i risultati della propria azione e i partiti europeisti non hanno ricordato gli straordinari benefici dell'appartenenza all'integrazione europea, pensiamo soltanto alla pace, l'Europa vive in pace da quando c'è l'integrazione europea, la democrazia, l'Europa ha rafforzato la democrazia e lo dico volutamente, polegmicamente, nonostante la crisi, il benessere. L'Europa ha assicurato un benessere ai cittadini europei come mai si era visto in precedenza. Queste cose i partiti europeisti ahimè non le hanno ricordate. Ecco, i risultati delle elezioni europee naturalmente hanno un risvolto anche in Italia, soprattutto in previsione del fatto che l'Italia sarà presidente del prossimo semestre europeo. Quindi quali ricadute anche sull'Italia e sulla nostra vita politica? Dunque, innanzitutto non c'è stato lo sfondamento previsto del Movimento 5 Stelle, che è rimasto piuttosto fermo, addirittura arretrato. Il Partito Democratico ha avuto il successo che ormai conosciamo. A questo punto sul presidente del Consiglio incombe una enorme responsabilità, perché il primo luglio comincerà il semestre italiano di presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea. Quindi credo che Renzi debba dimostrare coraggio prima di tutto e determinazione, come l'ha dimostrata nel Rottamare il segretario del Partito Democratico qualche tempo fa e poi il precedente presidente del Consiglio, debba dimostrare coraggio e determinazione durante il semestre italiano di presidenza del Consiglio per portare avanti quelle riforme che sono indispensabili all'Europa per venire incontro ai bisogni dei cittadini. Il sottosegretario Sandro Gozzi, che sarà responsabile del semestre italiano, ha presentato qualche giorno fa proprio gli intendimenti del governo italiano per il semestre. Dentro c'è, in questo progetto, c'è la riforma dei trattati, occorre più Europa, non meno Europa, per rispondere alle esigenze dei cittadini, la riforma del trattato di Lisbona, la lotta alla disoccupazione giovanile, quindi investimenti, il problema delle immigrazioni, quindi rafforzare la responsabilità europea nei confronti dell'immigrazione e assegnare a Frontex il controllo dei confini europei. Le elezioni europee nei diversi paesi europei sono andate non proprio allo stesso modo ovunque, ci sono state delle notevoli differenze. Qual è il commento del professor Morelli su queste diversità, su queste differenze? In molti paesi europei i partiti euroscettici sono il primo posto, pensiamo alla Francia, il fronte nazionale in Francia, al partito dell'indipendenza in Gran Bretagna, in Danimarca e così via. Globalmente però i partiti euroscettici nel nuovo Parlamento europeo non supereranno i 120-130 seggi, quindi la grande maggioranza rimane ancora ai partiti europeisti, anche se perdono rispetto al precedente Parlamento una novantina di seggi. Quindi io credo che alle forze che da sempre sostengono l'integrazione europea, che hanno portato avanti l'integrazione europea, cioè i popolari, i socialisti, i liberali, poi magari anche con i verdi e la sinistra radicale in Grecia di Tsipras, credo che a queste forze convenga realizzare un progetto concorde, consensuale di riforma dell'Europa, cioè di riforma dei trattati, in modo da rispondere alle esigenze dei cittadini. In particolare ovviamente la crescita, lo sviluppo economico, uno sviluppo economico sostenibile ovviamente, dare occupazione ai giovani e un ruolo internazionale all'Europa. Pensiamo ogni momento, ogni due o tre mesi scoppia una crisi nel mondo, l'Europa è tragicamente assente, in quanto l'Europa non svolge un ruolo internazionale coerente con il peso economico dell'Unione Europea. Quindi direi che alle forze tradizionalmente europeiste tocchi dare una risposta agli euroscettici, che sono sì saliti, ma ancora rispetto al precedente Parlamento, ma non saranno una forza tale da bloccare l'Europa, però bisogna dare una risposta ovviamente agli euroscettici, con più Europa. Grazie.